Siamo giunti a metà del nostro mandato e vogliamo a questo punto condividere con voi le cose che abbiamo fatto in questo periodo. Per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico al Binario 7, giovedì 19 marzo alle ore 20.30, ci troverete il Sindaco e tutta la Giunta e potremo illustrarvi i nostri progetti. Il sabato 21 marzo avrete la possibilità di visitare il Palazzo Comunale, nel pomeriggio saremo qui a ricevervi.